Ciao a tutti, sono tornata con un'altra decorazione agenda. Bene, sì, sono tornata con il solito appuntamento del lunedì, questa è la 45esima settimana ed è la settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 novembre. Questa settimana ho deciso di decorarla in questo modo perché ho trovato questi stickers di Robert che era l'attore appunto che ha recitato su Twilight, la storia appunto di quest'amore tra vampiri anzi no, lui era un vampiro, lei no, comunque ok, se non la conoscete, penso che la conoscete tutti comunque si chiama Twilight, ecco, poi dopo ha fatto diversi libri, diversi film e così via quindi avevo questi stickers e mi sono detta ce l'ho, li voglio utilizzare, è un po' un ricordo della mia giovane età di quando andavo al cinema e vedevo questi film e poi anche perché era appena passato Halloween quindi mi sono detta perché no, ci sta bene, visto che lui era un vampiro quindi tutto sommato ci stava e niente, questa decorazione è molto semplice, infatti non mi soffermo neanche più di tanto perché è veramente semplice, ho utilizzato come washi principale questo rosso che ho preso da Tiger poi per dividere i giorni della settimana ho utilizzato questi washi slim su loro questa settimana gli appuntamenti video saranno due c'è questo di oggi appunto che è della decorazione dell'agenda che vi mostro in maniera molto semplice, semplice come l'ho decorata e poi ci sarà un altro video, mercoledì 6 dove vi mostrerò una serie di acquisti che ho fatto in diversi posti a Lauson, a Risparmio Casa, alla Lida, dai Cinesini e così via quindi per questa settimana ci saranno due appuntamenti video poi dopo che ho scritto diversi impegni, le mie cose, il lavoro e così via niente, questa è la mia decorazione, qui mi si è staccato nuovamente il pellupo quindi dovrò cambiare colla, anche perché adesso non me lo ritrovo più c'è nel senso proprio una sfortuna, vabbè, lasciamo stare, ci vuole tanta tanta pazienza comunque questa era la mia decorazione, ve la mostro più da vicino eccola qua sto registrando di sera perché di giorno non sono riuscita niente, questa è la mia decorazione, spero che vi sia piaciuta se vi è piaciuta vi invito a iscrivervi al canale iscriviti, attivate la campanellina così da non perdere i prossimi video così che vi arriva la notifica di tutti i video un bacione grande, grazie ai nuovi iscritti ciao al prossimo video, ciao! ciao!